Nei prossimi giorni sarà commemorato in alcune capitali il settantissimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. In tale occasione affido al Signore, per intercessione di Maria Regina della Pace, l'auspicio che la società umana impari dagli errori del passato e che, di fronte anche ai conflitti attuali che stanno lacerando alcune regioni del mondo, tutti i responsabili civili si impegnino nella ricerca del bene comune e nella promozione della cultura della pace. Grazie